Luisa, Luisa, c'ho una novità! So il titolo della comedia nuova del Gaffa! Eh, sentino un po'? Dai e dai la blanzena! No, forse n'era la blanzena. Eh, ma pareva. Ah, ce so! Dai e dai il parel! Eh, è il scarciofne con te! Cari amici di FanoTV, il prossimo lunedì sarà un lunedì attrazione fanese al 100%. Voi giocate in casa e quindi siete di casa, le tavole della BCC Arena le conoscete a memoria, le tavole in senso di palcoscenico. Sì, qualcuno l'aveva anche ammontata può darsi, quindi le conosciamo molto bene. Sì, toccherà a noi, niente, riproporremo la BCC Arena, la commedia Dai e Dai la Spolla Adventalai, che è stata proposta alla rassegna San Frusaglia e una commedia, come abbiamo visto, è andata benissimo, brillante, è piaciuta, è piaciuta molto. La gente è aggredito, la nostra soddisfazione è questa e speriamo di risoddisfare tutti quelli che verranno alla BCC Arena. O quelli che già l'hanno vista la rivedranno un'altra volta. La rivedranno un'altra volta e soprattutto quelli che non l'hanno vista non se la devono perdere. Non se la devono perdere, dai dai la Spolla Adventalai, quindi vuol dire che se insisti più di tanto si riduce. Allora, innanzitutto speriamo, perché Alpoliteama ci aveva rovinato i piani e il Buran, quindi ma chi de' lui a meno che fa una grandinata improvviso e non avria da succedere da niente. La storia di quest'anno praticamente si svolge nell'ospizio ai migliori anni, dove sotto il periodo di Pasqua sono rimasti solo due anziani che non sono tornati a casa ma vengono, diciamo, i nipoti a trovarli. Ma non per amore, per interesse, solo che hanno dei piani che verranno stravolti dai venti addirittura risalenti alla Seconda Guerra Mondiale. Mamma mia, insomma, una trama di quelle proprio belle, intense. Assolutamente sì, e poi io ho sempre ambito a avere una parte un po' più di spicco, e infatti che quest'anno me fan feldo the coppia, niente, due minuti. Due minuti. Sì, però venite tutti, quindi vi aspettiamo il 9 di luglio, non mancate perché ci sarà da ridere. Tanto, tanto, gli autori, da noi sono 33 anni che le storie vengono scritte dai cugini signoretti che hanno delle menti malate, dopo noi l'estro ce lo mettiamo i vari attori del GAF e quindi di solito risate garantite per tutti, eh? Va spettane, eh?